Si colpisce, dopo che una persona ci ha preso, si colpisce, si lascia la sua presa e si colpisce il suo fianco e intanto si può spingere da sotto, da dritto. Si colpisce, sopra. La mano si estende, dita unite, il pollice aperto si chiude verso l'occo 1, in modo che qui dentro c'è una scanalatura, così. Sì, così. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.